Ciao Rattilovers, nuovo video, nuova auto. Oggi sono qui per presentarvi Opel Mokka X, un modello con 1600 di cilindrate e 136 cavalli. Diamo uno sguardo al veicolo, notiamo che si trova in ottime condizioni, infatti immatricolato nel 2019 è un veicolo aziendale, quindi ha avuto un solo proprietario. Questa Mokka, come tutte le nostre auto, ha superato il test dei 100 punti di controllo ed è garantita e certificata. Salta subito all'occhio il colore, si tratta di un dark moon blue, un colore scuro che cambia quando viene colpito dalla luce ed è perfetto per un veicolo grintoso come questo Mokka X. Quanto consuma questo veicolo? Beh, è adatto sia alla città che alle lunghe percorrenze, infatti consuma 4,5 litri per 100 km in extraurbano e 5,6 litri per 100 km in urbano. Cerchi in lega da 18 pollici in condizioni perfette, proprio come il battistrada. I fari sono halogeni e abbiamo anche i sensori di parcheggio perimetrali, perfetti per parcheggiare in tutta sicurezza. Diamo ora uno sguardo al bagagliaio da 356 litri, se lo spazio non vi dovesse bastare è sempre possibile abbattere i sedili posteriori. Sollevando troviamo la ruota di scorta per le emergenze con il suo kit. Entriamo nel veicolo e notiamo che gli interni sono veramente come nuovi. Abbiamo questi sedili in pelle molto sportivi ed eleganti e anche molto ricercati con la trama che si ritrova in tutto il veicolo. Questo veicolo inoltre è family friendly, infatti sono presenti gli attacchi Isofix su entrambi i sedili posteriori. Il cruscotto è in pelle ed è veramente elegante, proprio come il volante, dove troviamo comando vocale e cruise control. Ora accendiamo il quadro e notiamo che il veicolo ha percorso solo 10.100 km, veramente pochissimi, quindi non è un caso che il veicolo si trovi in queste condizioni. Ora diamo uno sguardo all'infotainment, notiamo il computer di bordo con schermo touch, dal quale possiamo accedere alle varie impostazioni di radio, media e telefono tramite connessione bluetooth. Il clima è automatico e bizona. Il cambio è manuale e non appena viene inserita la retromarcia si attivano i sensori di parcheggio che abbiamo visto precedentemente. E con questo amici abbiamo finito, si tratta di un veicolo grintoso, comodo e dai consumi ottimali. Se siete interessati andate sul nostro sito ratiauto.com dove troverete centinaia di veicoli a vostra disposizione e potrete sempre bloccarli con soli 100 euro. Inoltre vi ricordo la possibilità del test drive e della consegna a domicilio. Come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale e ad attivare le notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati. Al prossimo video! Al prossimo video